Ciao ragazzi ciao ragazze, oggi nuovo video dopo un po' di giorni, dieci giorni che manco guardate cosa ho comprato ti stai facendo vedere la via? e vabbè cioè perché vengono a trovarmi qualche stalker allora, sì stalker allora ho preso questo che è vediamo io non mi ricordo neanche vabbè ho preso da Shane eccolo qua Shane e da H&M Shane è questo eccolo qua guarda è incartato molto bene ho preso questo bellissimo questo bellissimo maglioncino dai Bruno Bruno questo bellissimo maglioncino che bello morbido anche la Naomi morbidoso bianco e nero questi sono fatti di materiale tipo come materiale tossico ma che tossico ma finiscila dai allora è bellissimo no? guardate la rifinitura Shane adesso mi denuncia ecco infatti io non c'entro guardate qui la bella le maniche solo che non ha ho notato che non ha l'etichetta tutto illegale ma che illegale non vedo l'ora di provarmelo adesso questo H&M è incartato nella carta e anche questo è simile però è diverso è simile ma diverso questo è incartato un po' più ecco eccolo qui H&M eccolo qua bello anche lui lo credevo un po' più mamma mia enorme un po' più piccolino madonna beh vediamo come mi sta perché le cose dovevano essere spioventi le cose non è che mi sta così mamma mia è bellissimo questo ha le righe però le righe di che coloro sono le righe verdigno verdigno cos'è? è la collezione di oh scopera divi oh non riesco a capire comunque H&M divi divi ma che carino che è bellissimo XL vediamo che mi stia bene eh potevo prendere una L vediamo che mi stia bene facciamo vedere l'etichetta l'etichetta che devo togliere questo è fatto veramente bene è più leggero di quello eh guardate le maniche come sono è più leggero di quello lì però è anche lui bello morbidoso 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 allora vi farò vedere nei prossimi video magari ce li avrò su e ve li farò anche vedere come mi stanno ci vediamo per un altro video domani e se vi è piaciuto il video mettete like iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella ciao ciao ciao